La conformazione stessa dei nostri teatri, la loro presenza, la loro quantità, testimonia l'importanza passata ma non solo presente e futura di questo strumento insostituibile. Le Marche, terra di teatri, onorano con orgoglio la giornata mondiale del teatro, istituita per la prima volta il 27 marzo 1962. La data coincideva allora con la cerimonia di inaugurazione del Teatro delle Nazioni che si svolgeva a Parigi. Le Marche rappresentano un laboratorio importante, sono un terreno fertile per coltivare le passioni per la recitazione, la regia e la scenografia e quant'altro ruota intorno al mondo del teatro. I luoghi teatrali della regione vengono inoltre scelti per allestire le prime nazionali. Gli attori si sentono accolti e apprezzano il contesto che favorisce la loro concentrazione. I cartelloni che vengono proposti alla platea danno inoltre la possibilità di variare da genere a genere, senza preconcetti. Continua a essere vero quello che diceva Alberto Savigno, che il teatro è il premio serale che l'uomo dà alla sua fatica diurna e sicuramente le Marche da questo punto di vista sono sicuramente in prima linea come proposta a livello nazionale e internazionale. Il teatro ora sta vivendo una nuova era. È sempre più apprezzato e le sale si riempiono di spettatori dall'età più diverse. Con la pandemia il settore, composto da attori e varie mestranze, aveva subito forti difficoltà e la ripresa non sembrava possibile. La pandemia ha inoltre fatto capire quanto il teatro mancasse. Eravamo preoccupati per la ripresa, invece devo dire che i dati, non solo i nostri, ma anche a livello nazionale, sono impressionanti. C'è stato un ritorno incredibile al teatro. Anche questi giorni, insomma, i teatri delle Marche, che sono un unicum, come sappiamo, tant'è che sono candidati ad essere addirittura patrimonio dell'UNESCO per opera della regione Marche, sono strapieni di persone desiderose di incontrare un momento di evasione, un momento di riflessione.